Buonasera professor Barbero, questa sera il quadro è molto bello perché ci dà un po' uno spaccato della vita al medioevo, qui siamo in un banchetto molto raffinato, ci sono i cortigiani, il signore a tutte le portate, tra l'altro è raro nel senso che all'epoca erano soprattutto i soggetti e religiosi, però questo non è un vero quadro. È una miniatura da un libro d'ore in cui sono rappresentate anche tutte le scene di vita quotidiana nei vari mesi. Noi abbiamo un po' l'idea attraverso queste immagini, un po' diversa da quella tradizionale di banchetti con interi buoi che cuocevano alla fiamma, come era l'epoca, la tavola dei signori? Il medioevo è un'epoca molto lunga, qui siamo alla fine e sono diventati molto raffinati, il tempo di Carlo Magno era un po' di più come si vede nei film invece, Carlo Magno mangiava arrosto tutti i giorni, quando è vecchio e comincia ad avere un po' di acciacchi, i medici gli dicono che forse sarebbe meglio mangiare il bollito, Carlo Magno si arrabbia perché senza arrosto uno non è un vero re. C'è una leggenda proprio al tempo di Carlo Magno, dopo che lui ha spodestato Adelchi, il principe dei Longobardi, lo stesso Adelchi di cui parla Manzoni. La leggenda dice che Adelchi si intrufola in incognito nel palazzo di Carlo Magno e partecipa a un banchetto e in questa grande sala si mette in un angolo, mangia, il mattino dopo i servi vengono per pulire e nell'angolo dove si era seduto Adelchi trovano un'enorme montagna di ossa, si buttavano le ossa sul pavimento per i cani, chiamano Carlo Magno, Carlo Magno vede questa montagna di ossa e capisce che Adelchi è stato lì, perché solo un principe può mangiare così tanta carne. A quell'epoca si dice che venivano usate tante spezie per coprire il sapore della carne andata male, ma in quei banchetti forse non era così. Io credo che questa sia una leggenda, perché le spezie costavano carissime, solo i ricchi se le potevano permettere e i ricchi mangiavano carne buona, non mangiavano certamente carne andata male, in ogni caso nel piatto di carne con le spezie la parte costosa sono le spezie e non la carne, quindi in realtà io credo che loro mangiavano così perché gli piacevano le spezie, c'era anche il fatto che fa piacere mangiare cose molto costose, un po' come oggi quando mangiamo il tartufo o il caviale. Prima della scoperta dell'America però su queste tavole mancavano dei cibi che oggi invece sono molto pregiate, cominciare dai pomodori, le stesse patate, tantissime. Sì, infatti è difficile immaginare come facessero a cucinare senza tutte quelle cose, i peperoni mancavano, che per noi piemontesi sono fondamentali, mancava il cioccolato, il caffè e le spezie servivano appunto per ridare sapore ai cibi che altrimenti ne avrebbero avuto di meno. Di solito si pensa, almeno noi abbiamo questa sequenza, l'antipasto, il prezzo forte, la minestra, la frutta, prima il salato poi il dolce, allora abbiamo l'impressione che mescolassero un po' più le cose. Sì, 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 infatti non è che sia nella natura il fatto che si mangia prima il salato e poi il dolce e che la frutta si mangia alla fine, anche quella è una questione culturale e nel medioevo scambiavano molto più volentieri i gusti. C'è un racconto di un frate francescano, Salimbene, da Parma, che un giorno va a pranzo in Francia col re di Francia e Salimbene ci racconta questo pranzo regale e la prima portata è un piatto di ciliegie. Siete, ma oggi abbiamo ancora qualcosa che rimane di questi piatti medievali sulle nostre tavole? Beh sì, senza saperlo sì. Tutte le cose col ripieno sono medievali, per esempio le torte salate, come la torta pasqualina con la verdura, l'uovo, la ricotta. Quello è un piatto che è rimasto uguale dal medioevo, perché per loro era comodo fare dei piatti che si cuocevano nel forno insieme con il pane. Oppure le paste con i ripieni, gli agnolotti, assolutamente sì, torpellini, quella è tutta roba medievale. Però se uno vuole veramente sentire il sapore della cucina medievale deve andare in un ristorante marocchino. Lì, con le spezie e con l'agrodolce ritrovi i gusti che piacevano ai nostri antenati. La nostra cucina oggi è un po' diversa, ma diciamo che comunque è evoluta bene, perché la cucina nostrana è molto buona. Non mi lamenterei. Grazie, professore.